Cari amiche e cari amici, Antonella vi hanno presentato Buongiorno Italia, vi dà l'appuntamento a domani mattina alle Ottimizza e mi raccomando ricordatevi che il mattino si vede dal buongiorno Italia, buongiorno Italia, buonanotte, è Marta, è Marta, è Marta Italia, buongiorno anche a te, è Marta, è Marta, è Marta, è Marta Italia, ti svegli, Italia, la vita, Italia, sorridi, il giorno che ti aspettano Tornerà E' un punto che sa I semi di aranci E' un giorno che a te Si ritorna un giorno mai